Questa mattina presso la sala conferenze del Comune di Battipaglia si è rivolta la conferenza stampa di presentazione del progetto inerente alla spiaggia per persone diversamente abili, quindi priva di qualsiasi barriera architettonica ed accessibile al 100%. Domenica 1 luglio alle ore 10 si inaugurerà la presenza di autorità civili, politiche e soprattutto delle associazioni che hanno voluto con insistenza e caparbetà il realizzarsi di questo progetto, questa spiaggia che era degradata da anni. Finalmente siamo riusciti in questo progetto che è partito quasi un annetto fa con una proposta del comitato Disabilitiamoci al quale abbiamo dato poi voce lentamente con l'aiuto un po' dell'amministrazione, delle varie associazioni che hanno collaborato con noi, delle varie croci su Battipaglia che saranno a nostra disposizione al mare dal 1 luglio al 31 agosto, dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio ci faranno compagnia e quindi finalmente riusciamo ad attivare questa opportunità di aprire questa spiaggia aperta a tutti ma soprattutto ovviamente alle persone con disabilità. Speranza scommessa vinta, si apre finalmente il 1 luglio questa spiaggia per persone diversamente abili? Certo, ce l'abbiamo fatta. Dopo un anno di lungo lavoro burocratico e pratico finalmente arriveremo il 1 luglio ad inaugurare questa spiaggia. Grazie al lavoro sinergico di tutti perché nei vari ambiti siamo riusciti ad avere la disponibilità sia dalla parte amministrativa, quindi dall'Aggiunta, che ogni assessore nel proprio ambito ha lavorato affinché riuscissimo a realizzare questa spiaggia per tutti e sia dalle varie associazioni e le realtà cittadine perché come vediamo anche oggi presenti ci sono tutte le realtà che vogliono lavorare e dare un contributo pratico a Battipaglia ci hanno tutti aiutato a realizzare questo obiettivo. Quindi una scommessa vinta ma soprattutto una grande dimostrazione che insieme possiamo affrontare le problematiche, anche quelle lasciate un po' più ai margini e dare, seppur in piccole dosi, una vivibilità maggiore a questa città per tutti.